alfonso signorini ha dato inizio all'ottava puntata annunciando ai telespettatori che al grande fratello 2023 ci sarebbe stato un eliminato a sorpresa infatti solitamente le eliminazioni avvengono il lunedì sera e pertanto i gieffini non se lo aspettavano quando si è collegato con la casa alfonso ha chiuso il televoto e poi si è concentrato sul caso di beatrice luzzi il blocco è durato per gran parte della puntata questo è un chiaro segno che l'attrice è l'assoluta protagonista di questa edizione e a confermarlo è stato anche il risultato del televoto ma prima di arrivare al verdetto beatrice si è ritrovata ad affrontare accuse e confronti accesi in diretta con cesara buonamici e rebecca staffelli che sono finite nella bufera dopodiché è arrivato il momento di scoprire il verdetto del televoto ancora una volta è beatrice la preferita del pubblico con il 47 per cento giselda 17 per cento vittorio 11 per cento letizia 10 per cento alex 6 per cento lorenzo 4 per cento arnold 3 per cento e valentina 2 per cento un televoto stravinto dall'attrice visto che ha battuto con una percentuale abbastanza evidente ben sette coinquilini come preferita del pubblico beatrice ha scelto tra i suoi sfidanti chi rimandare al televoto flash lorenzo da qui ha preso inizio una catena lorenzo ha portato con sé arnold che trascinato valentina la quale ha aggiunto alla lista vittorio questi quattro concorrenti sono finiti così al televoto la puntata è andata avanti con il caso legato ad alex schweiser e grecia colmenares il modo con cui lo sportivo si è rivolto all'attrice durante uno scontro ha lasciato l'amaro in bocca a molti telespettatori la situazione si è complicata stasera in quanto il pubblico si aspettava una romanzina da parte di signorini per schweiser o almeno delle scuse da quest'ultimo così è scoppiata la bufera sui social network